Non perdiamo tempo, mi piace, mi piace, è carino, è carino, è divertente, è divertente i Steel Rats Devo andare a vedere che cosa vuol dire in Italian, Steel Rats Ciao, ciao, ciao amici, amiche, mitici, nuovo video Steel Rats Steel Rato, 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 potenziamenti, non ci abbiamo ancora niente, mi è piaciuto Mi è piaciuto perché poi alla fine è carino Vediamo un secondo, dai È proprio un giochino di quelli passatempo E quindi è carino, è carino Poi porterò altri giochi sul canale Ne ho comprati un bel po' Dai, andiamo col Steel Rats È questa moto guidata da un ratto Che col triangolo salta e col cerchio si gira È fortissimo raga Uh, era X Non mi era stato detto che era X Questo era un potenziamento, ok Allora, andiamo vicino Tac Allora, io non lo so se dobbiamo andare su tutto o che cosa Penso di sì Quindi, tac Ok, mirare e rilasciare Boom Ah, perché taglia Ah, che figo Ah, ecco perché me l'ha detto adesso Ah, bisogna anche Ricordarsi di Ah, non posso prendere le macchine Ah, no, perché mi sei in... Volevo romperla io Uuuuuh Ok Triangolo per saltare Bello lì No, la macchina no Il carro armato no Ah Ah, si rassionano perché questi? Distruzione totale Oh, ca Oh, ca Ah, bellissimo Uuuuh Come sgomma Come sgomma, ragazzo Come sgomma, ragazzo Ah Mi sono dimenticato che è il triangolo No, ho fatto cadere il tubo Potrebbero essere dei bei soldoni Ah, scusa Scusa Preso un muro Oh Oh My god Ok cacchio acceleriamo forse ce la facciamo l'abbiamo fatta Bob Don drive here sembra che tu felice e diverti hai trovato capo James il leader senza paura bella lì James chissà che moto ha James allora 1000 2000 3000 e vai 5000 ozzi ferraglia 1300 segreto sbloccato grande ah il segreto era quello lì giallo andiamo subito avanti non perdiamo tempo mi piace mi piace è carino è carino è carino è divertente è divertente still rats devo andare a vedere che cosa vuol dire in Italian still rats vai è lui ah lui è proprio lentissimo no no non è lento fa lo sprint nooo eh vabbè se mi fai partire da qua Jimbo Beats devo prendere la ringuorza quasi quasi allora ci hai capito così eh però nooo sei serio sono morto troppe volte dai ma no ma che cosa ma perché mi fai partire da qui ho perso la possibilità di giocare col grande sborvost con il grandissimo zaniboy oh la macchina non posso tagliarla cacchio però posso saltare col triangolo eh allora uh questi sono micro robots drone è un mostro dai abbiamo già i mostri eh si allora con la X non sono proprio dei mostri però sono dei robots attenzione che qua di solito mettono le cose mi sa che mi sono inchiodato questo è un boss no ciao grandezane ciao amici grazie eh non è che forse è un drone un compagno oh quanti ne facciamo fuori stagli i droni sai che è per tagliare le macchine si è staglata la macchina si è staglata si è staglata con la barra blu è tipo stamina non me ne ero accorto prima oh questo è uno diverso c'è stato da sul muro no no questo non si può le castano mi sono inchiodato no che stupidotto va beh oh guarda prima faccio le cose identiche proprio forte cazzo bisogna stare attenti con la stamina che se non faccio la ruota non riesco a fregarlo salto troppo vabbè andiamo non è che quello l'ho messo ti ho dato una spalettata hai poca vita facciamo prendere un po' di stamina bello oh quello non riesco a beccarlo niente da fare vabbè ce lo faccio può esplosare da solo non la vedo porca bellissima devi saltare col treno che passa devi fare turbo da qua fai porca col turbo si c'è scritto x e io con la x ok dico che passa sopra il treno non andare giù un altro treno freddissimo salvato a pelo randall randall come in randall come in randall è stato statico per fortuna mi trovo mi sono chiamato anche giù va vedi stai attento adesso però ancora una placca di porca no dai aiii cacchio cacchio beh da capo si del livello mi sa da zero perchè ha due personaggi sono morto troppe volte e cacchio cacchiolin cacchiulet e si no quindi tu adesso c'è lui eh si prima ve l'ho ammazzato dieci volte qua nel salto ah qui eh di cliccare due volte eh però non c'ho stamina devo aspettare vedi che non ce l'ho mentre ti trovi a mezz'aria facciamo raccogliere la stamina facciamola salire perchè sennò perdo un altro allora x per effettuare uno sprint in avanti x quindi io vado adesso di x poi quando sono a mezz'aria x giusto? devi fare due volte x bravo occupa cioè spreca troppa stamina il salto da mezz'aria eh si ah porca ah cacchio ho fatto fuori la macchina cacchio ho fatto fuori la macchina vabbè che l'abbiamo già visto che sono robots i robots guarda questo oh ok questo qua questo è davvero il mio cacchio guarda 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 cosa è questo? quello che è questo? è una paperella ah non si può andare alla paperella ah volevo prendere la paperella ma si però io non ci ho fatto niente e hai volato giusto l'ho visto si sembra che ci sia troppo più nella città l'abbiamo già visto prima raga c'è legnata che gli ho dato quindi adesso tu sei il topo ratto si si ma quando è che ha cambiato l'azione? non so c'è il personaggio eh all'inizio del quadro l'avevo già visto io ah qui non succo vedi qui non consuma energia per fortuna si forse qua te la te la sai si si se si 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 cacchio ma quelli hanno dato un sacco di pezzi quelli sono potenti qui che cos'è scusami non lo so è qualcosa di extra non penso si no se ti butti muore secondo me è qualcosa di extra provo di sfuggire la macchina ho visto che l'ampeggia di giallo porca devi fare doppia x se cadi ti riporta il pezzo molto in via però muori quindi tu dici doppia x doppia x a mezz'aria cacchio ma dai mi sono sbagliato aspetta mio amore ancora due perché sei qui no ma sei scemo dai ma hai buggato ma perché mi hai messo qua tu dici che se questa qua si taglia wow aspetta no ma no si che furtum ah lì c'era il cosino per salire lui sa che per dopo vai lì aspetta cacchio no la 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 andiamo avanti va quelli sono quadri extra vediamo questo almeno dai porca stai già per morire e non sapevo che c'era anche il treno adesso pensavo che arrivava solo dopo no pensavo che arrivava solo quando salivo di qua no tanto è così basta fare l'attacco si solo che devi avere tanta energia per il trenore lo spreca su che sei poca energia come sono ven PhD io sono era morto qua non mi hai fatto più io non sono sono ce l'apporte ma le vai le vai lì è Sì, l'ho morto qua Sì, qua ti ho schiantato Eh, ve l'ho schiantato contro Forse devo fare qualcosa qui Sì, devi saltare la rampica Vai, adesso spunta Sì, ti fa guadagnare energia Sì Ok, grazie Me l'ho ammazzato con la retola Cacchio Cacchio Non lo so Dove devo andare, scusa Aspetta, vai indietro No, non puoi andare giù Ti c'è no? No, guarda non c'è qualcosa Porca orta C'era ancora uno Ce n'era Fatti strada con la salaria Questo Penso che qualcosa c'è questo qua È burro Guarda, ti dava punti No, non puoi tagliare No, cacchio Ma no Ma no Ancora qui Dai, non ci credo Vabbè, la partita di prima è stata un po' Perché volevo fare quelle macchine là Quindi ho perso due vite Per fare il pezzettino Fai un pelinato Allora Così Allora, con la R2 Fai il cambio corsia Su e giù Su e giù Impenna E si lascia andare Quando devi saltare Triangolo salta X fa la ruota E cerchio fa Così X quadrato 3 E come faccio a girare dall'altro lato? Come? Come faccio a girare dall'altro lato? Cerchio Ma così? No, puoi accedere la R2 Vai a destra a sinistra Sì, accedere la R2 Sta provando Dun & Boy, ragà Your crazy story will have to wait We need to find the rest of the gang Last time I checked Randall is fooling around near the old mine Lackered Oh Ho fatto uno sprint Verso la nuova E qui è un casino Questa nuova Qui è un casino Anch'io sono morto un bel po' di volte Perché poi la seconda non lo fa, eh Ne fa solo uno di sprint Eh, si Sì, infatti Corriamo troppo Forse bisogna far caricare un po' Ah, ah, ah Però potevano fare che se uno faceva i trick Ah, rotazione Guarda, guarda Te li da, eh Guarda Fai Fai la rotazione Continuo Guarda Rotazione Rotazione Ah, ah, ah Dai punti, vai Girati Ah, è così? Sì Cerchio Vai, arrivi Ruota Anche con la X li devi fare, eh Con il triangolo oscuro Triangolo qui Nooo, mio amor Che botta Cerca il steel rice Wow, una macchina tagliata in due Grande Bello, bello Ci sta Ci sono delle macchine Adesso che non sto giocando Sto vedendo che sono gialle Non so, c'era una macchina di gialla Quindi probabilmente con le zalle Mi hanno avuto un sacco di Un sacco di roba in più Le zalle Eh, penso Penso di sì Bravissima Uh, che salto 8 Cerchio Cerchio, cerchio, cerchio Sì 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 Eh, devo amassare loro Sono già quasi morto Sì Che bello Mi fare un po' di X Questa volta lo prendo Eh, veniva Non mi lascia di stare con il mio Non ti ho più una Non sono in capo No, no, non volevo uccidere Quello del Cia Perché stavo andando di là Sì Sì Il bello di questi giacchi Prima Sì 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 È bello che se si gira a sottarecchio è morto Sì 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 No, perché è il tigini troppo Sì Eh, c'è un po' di comandi Si gira troppo Sì 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 E che cacchio Allora ascolta Facciamo così già che ce l'abbiamo tutte e due Ma no L'ho detto ma non mi hai detto Dai Ma cacchio Ma è incredibile C'è incredibile E' incredibile ragazzi sto quadro E' incredibile Incredibile Ho perso One Minions di vita lì E questa è Zampeggia di Giavia Forse è Forse è Bisogna ammazzarla Allora vediamo un attimo Vedi che colori non prendono di giallo No E questo non prendono di giallo Quattro? Terminato? Per tre c'è da Per tre c'è da Per 16 mi sembra Quattro di scendere Quattro di cingere Quattro d'ecque Per cinque No sta scendendo Vedo che scende il trapuatto Corso Quattro di cingere No, non c'è il problema. allora adesso c'ho il 4 cacchio non ci credo che è andato troppo veloce no per uno vedi ogni volta che muori è tanta roba vedi che si attacca ma scusami come si fa andar di lì qui a dici che non si va di lì decidi no c'erano qualcosa anche lì è troppo basso adesso siamo all'inizio segreto non abbiamo mica sbloccato forse bisogna saltare tanto questo è solo di prova raga voglio capire ma no se è incastrato voglio capire forse non ce l'abbiamo l'altro non è morto tu devi saltare poi guardi verso l'alto fai il salto adesso adesso si va in fondo per mi tanta rincorso qui è per saltar di là ok triangolo è sapevo che c'era segreto dai adesso adesso aiia hai visto eh si avevo letto l'area grafica davvero tu immagini insomma ammazzo adesso che si riguarda sto scemo no ma perché ha messo il cosino lì vediamo pianino che tanto qua non è difficile solo arrivare alla fine se non dirmelo a morire sai che succede sempre che si muoiono eh è proprio l'attacco e poi è stupidissimo perché è facile non so perché prima vabbè perché sono un bel pro eh poi è un gioco in 2g di giustare sono carini però cioè se si tratta di girare vabbè si 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 ma non lo vedo i nostri amici che stiamo facendo la live comunque si hai ragione no il video il video fa un video ragazzo non so se dove l'ha eh si no no cacchio mi sono salvato raga no 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 ah si 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 io si ce l'ho da qui se l'ho da qui se l'ho da qui adesso è addosso la mano e vai hai visto senza rivali distruggi 50 esegui una doppia rotazione durante un salto non vuoi rifare no ok ma in che senso è un revolver hm revolver dove lo vedi quel proiettolo è un revolver la pistola avevamo la pistola boh no lo chiamano il revolver come se siamo una pistola ma non abbiamo armi cioè l'unica è la è la sega davanti a alla moto invece ok ok oh oh eh si ah ce l'abbiamo adesso il capo ed è macchiata questa urm una che unità radio mobile di tipo 4 ha una ragazza di bordo incredibile ma ampia forse poter usare per contattare Randall ci sto ok 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 ti che stasera un'unico stai in avanti avanti che che là faccia attraverso dobbiamo caricare la barra blu la barra blu Adesso bisogna stare su quel robino lì? Serio? Ma non mi fa andare lì eh, non credo che... forse si può andare perché c'è un'apertura ma... E' un casino eh, dai vai indietro ceccio! Oh cacchio! Oh niente, non ve lo fa fare... Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo la polizia costalale ha già confermato che il distritto esterno di Warrantzgate è stato attaccato da forze non conosciute mi ripeto che la città costalale è stato attaccato da forze non conosciute la città è stata attaccata da forze non conosciute cacchiarola sapevo di finire così così malamente ok ok vediamo cosa succede nooo questo va bene vuole combattere c'è questa ruota infocata oh ma sgherro artigliere oh 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 my oh 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 non è che arriva il treno eh non è che mi arrivi il treno eh non è che non è il treno Sì. con la sparatoria ha un sacco di tasti amici bello 5 10 no e non c'è segreto dove era il segreto dai finiamo la prima mappa ferraglia magari a volte anche l'indietro è la prima parte del bisogna stare attenti con questi giochi ah figo no non esageriamo questo non si taglia c'è bei carretti grossi vado per scendere randie be quiet this place could be swarming with those whatchamacallits actually i think we should call them junk bots since you know they're robots yeah and Sì. Sì. Porca. Perché c'è un balordo? Ok. Porca. Porca. Uh. Il minatore. È in alto, quindi... ... Porca loca. Ma che salto vi ha fatto? È in alto. No. Caspita le presse! Ma cosa pressano poi tra l'altro? Solo me! Eh... Io lo so che questi giochi sono così, bisogna andare un po' in giro per tutto! No. No! 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 Che cos'è questo? No! 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 Dai 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 Vai No È tostissimo Dai vai Cacchio Cacchio Ma no Ma sei girato verso il pazzo Ma sei Un balordo No È l'ultimo Non ci credo È un boss Questo qua Dai Piano Vai 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 Non girarti Non far cose strane Non girarti Non girarti Dai Ma cose strane Dai Dai Ero lì ero arrivato alla fine non mi sono a carta vediamo se lui è più bravo vai vai molte si dormono porca noca guarda guarda che scemo dai girati ciccio come butta frank randall principe dei biker grazie a tutti